Geremias Rodriguez è amico di Emanuele Berardi? Come ben sapete, il figlio minore di Barbara D'Urso è molto schivo e riservato Dopo avere acconsentito a fare uno scherzo alla madre durante la prima puntata di Scherzi a parte però, tutti sono impazziti per lui Di recente, il fratello di Belen ha condiviso tramite le stories di Instagram, proprio uno scatto che lo ritrae mentre abbraccia in maniera scherzosa, il figlio della ruspante carmelita nazionale La fotografia in poco tempo, ha immediatamente fatto il giro di internet. Se vi state chiedendo il perché, a seguire vi spiegheremo il motivo di tanto stupore Tra Barbarella e l'intera famiglia Rodriguez, specie Belen, non scorre buon sangue Come ben sapete, entrambi i fratelli, dopo l'eliminazione dal grande fratello Vip, avevano rinunciato all'ospitata televisiva nei salotti della D'Urso, tra pomeriggio 5 e domenica live Mitica infatti, proprio la frase di Barbara che, commentando la decisione aveva serenamente esclamato, facciamo il 22% di Scher anche senza i fratelli Rodriguez Geremias Rodriguez ed Emanuele Berardi sono amici? Nonostante gli evidenti screzzi tra Barbara D'Urso e la famiglia Rodriguez, come mai Emanuele Berardi è apparso al fianco di Geremias? Non ci è dato sapete se tra di loro ci sia una amicizia profonda oppure una semplice conoscenza di queste ore Proprio ieri infatti, entrambi si trovavano in Spagna per assistere al circuito di Valencia della MotoGP dove corriva Andrea Iannone, grande amico di Geremias Rodriguez ed ex fidanzato di Belen E' probabile che i rapporti tra Carmelita e il clan si siano ammorbiditi con il tempo oppure, Emanuele frequenta gli amici a prescindere da ciò che accada alla madre in televisione Ed infatti per fortuna, gli screzzi tra di loro, non si distaccano dal mondo dello spettacolo, senza entrare in alcun modo nella sfera privata Nonostante questo, lo scatto pubblicato da Geremias, ha fatto notevolmente parlare gli amanti del gossip Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like